Quali sono le migliori protezioni per il Krav Maga? Allora, anzitutto è necessario fare un discorso di punti. Il Krav Maga non è uno sport e quindi di conseguenza prende a prestito tutta una serie di protezioni e attrezzature da altre discipline. Il punto quindi è riuscire a capire come sceglierle e quali sono gli elementi che caratterizzano queste protezioni che possono fare al caso del Krav Maga. Altrimenti quello che succede è quello di prendere delle protezioni che si fa estremamente performanti per una disciplina, pagare moltissimo e ritrovarsi quel vero prodotto che è costato molto e non serve allo scopo. In questi video quindi ti spiego alcune cose che ti saranno sicuramente utili per scegliere la tua attrezzatura in piena autonomia e scoprire quali sono gli elementi essenziali da dover controllare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!